Ben trovati a tutte e tutti e benvenuta a Marilena Mosadelli. Siamo qui appunto per la presentazione del suo secondo libro, Negretta Baci Razzisti. Marilena è una scrittrice, questo è il suo secondo libro che è giunto alla terza ristampa, però è anche fotografa, regista e produttrice musicale. Ciao Marilena, benvenuta. Ciao Ale, grazie. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Allora, siamo qui appunto per presentare il tuo libro, che è questo qui, Negretta Baci Razzisti. È un libro che io ho trovato stupendo, veramente molto figo, ma soprattutto molto di impatto. Com'è di impatto la sua copertina, che potete vedere, che ha curato la casa di Ticelestra Press, ma è molto di impatto anche il suo titolo. Quindi io partirei proprio da questo. Come mai hai scelto di chiamare questo libro Negretta? E se ci parli anche di questi baci razzisti. Ok. Allora, Negretta è effettivamente un titolo molto forte, uso la N-word. Questo perché Negretta è il modo in cui sono stata chiamata quando sono venuta al mondo. Del resto anche mia mamma è stata chiamata così in ospedale. Sono stata chiamata Negretta anche dai miei compagni di classe il primo giorno di scuola e poi negli anni a seguire, nella totale indifferenza delle mie insegnanti. Negretta è il modo in cui mi hanno chiamato passanti, vicini, parenti, anche impiegati, pubblici. Per esempio, l'identità della protagonista, che come me è italo-ruandese, a papà bergamasco e madre ruandese, ecco, è un'identità che veramente è costantemente messa in discussione. Perché appunto, parlando di impiegati pubblici, all'anagrafe, quando i genitori vanno a registrare il suo nome, che dovrebbe essere un muhozza, che vuol dire consolatrice in Kinyarguanda, quindi scelto con amore dalla mamma ruandese, l'impiegato si rifiuta di mettere quel nome su un documento italiano. Tra virgolette, visto che questa è una storia che si ispira veramente alla storia della mia famiglia, 30 anni dopo, quando sono andata a registrare il nome di mia figlia in un altro comune d'Italia, è accaduta la stessa cosa. Mia mamma è diventata nonna, che aveva scelto un nome ruandese per la sua nipotina. Ecco, si è vista di nuovo nella stessa situazione. Noi siamo andate a registrare questo nome, un mutoni, e l'impiegata ha detto che un nome africano non poteva finire su un documento italiano. Dunque poco sembra essere cambiato in un paese che non sembra appunto voler cambiare, come dico anche nel libro. E poi quando non ci sono le persone a chiamarla con la N-Word, ci sono comunque i muri di Bergamo. Lei cresce nella Roccaforte leghista per eccellenza, dove ci sono i muri con le scritte immigrati fuori, affondati barconi, la N-Word, appertutto, a ricordarle che lei e la sua famiglia sono indesiderate. Quindi anche per questo, ecco, Negretta è il titolo. Poi questa ragazza, questa bambina che cresce e diventa donna, ha anche due genitori, appunto una mamma ruandese che è sopravvissuta a tre genocidi, che passa dal razzismo del suo paese per passare poi al razzismo del paese di suo marito, di cui diventa cittadina anche lei, e si scontra con il razzismo istituzionale. Per esempio, lei che ha acquisito la cittadinanza un anno prima che la legge cambiasse, quando sposando un cittadino italiano potevi diventare ancora italiano automaticamente, dopo quindi nove anni che lei votava, si è vista negato il voto in un comune di Bergamo, in cui le viene detto che gli enne non votano. E quindi lei che comunque aveva sempre vissuto questo razzismo con il silenzio in modo passivo, per la prima volta decide di andare da un legale e di denunciare il comune. E così, nonostante debba saltare giorni di lavoro e trascinarsi da un paese, da un posto all'altro con la gamba zoppicante, alla fine ritorna quindi, in comune vince la causa, e quando torna a votare le viene detto dallo stesso impiegato signora, non c'è bisogno che ci mostri il documento, prego la conosciamo. Quindi cambio di tono e anche di registro, visto che mia mamma è sempre stato dato del tu e mai del lei. Ecco, dicevo, prima parlavo di razzismo in Ruanda, perché ecco, mia mamma da piccola, e questa è una storia vera, è stata rapita dai coloni belgi, dagli ex coloni belgi, che sui bambini ruandesi sperimentavano il vaccino della poliomelite, e così lei è finito per contrarlo, e per questo che ancora oggi zoppica. E quindi crescere con una mamma ruandese ha voluto dire anche avere certe pressioni, dovevo eccellere a scuola, perché come diceva lei, mi dovevo rimboccare le maniche dici volte di più per mostrare a loro, cioè ai bianchi, che valevamo qualcosa, e voleva dire anche usare saponi sbiancanti e prodotti per lisciare i capelli, perché comunque il modello era quello biancocentrico, eurocentrico, per cui la bellezza era quella bianca del cappello liscio. Quindi la protagonista, proprio come me infatti, sentiva costantemente inadeguata, costantemente fuori posto. E poi c'era il papà, che appunto è un ex missionario, lascia il talare per amore, quindi famiglia, amici contro, parte da zero a 40 anni suonati, e questo voleva dire che la famiglia navigava in cattive acque economiche, esattamente come la mia famiglia, che effettivamente è sballottata da una periferia all'altra di Bergamo. Io sono cresciuta in una fabbrica, perché mio papà faceva il custode, quindi avevamo la catrameria dietro, l'aeroporto di Oriol Serio, non molto distante, la superstrada, e poi cambiandolo magari di città, di zona periferica, non è che cambiasse molto il contesto, sempre molto industriale, sempre molto inquinato. E quindi papà ha anche fortemente leghista, convinto. Quindi immaginatevi questa ragazza, quindi che diventa pian piano donna e cresce, e si sente veramente spaccata in due, non solo spaccata in due, perché comunque deve avere a che fare con questa divisione tra razza e cultura. E per razza, naturalmente, non parlo in senso biologico di razza, ma di razza come costrutto sociale. Quindi deve avere a che fare con questo e poi crescere in un contesto culturale biancocentrico, dove praticamente appartiene all'unica famiglia nera del paese, della sua città. E poi, ecco, intendo dire, c'è proprio questa spaccatura, perché da un lato ci sono le pressioni della società, con tutte le sue microaggressioni, il razzismo, e dall'altra parte c'è una bambina che poi diventa donna, che vuole semplicemente essere come tutte le sue coetanee. E non è facile, non è semplice. Grazie a una splendida amicizia, riesce a ritagliarsi dai momenti in cui si sente normale. Un'amicizia che nasce a scuola, tra i cori dei bambini cattivi, che chiamano lei caffè perché ha la pelle troppo scura, e un'altra bambina latte perché ha la pelle troppo chiara. Quindi sotto i cori di caffellatte, caffellatte, e sotto una pioggia di big bubble, di pallottole di carta, di gomme, queste due bambine completamente diverse diventano letteralmente amiche per la pelle. E dunque questa è la storia di questo romanzo. E quindi è una storia che proprio si ispira a quella della mia famiglia, e quindi ho voluto risignificare, quindi la N-word, attraverso questo, no? Attraverso questo racconto. Questo testo, questo è un romanzo, è fatto di, è costruito istantanee, perché per ricostruire la mia memoria, che la mia memoria è un po' come uno specchio in frantumi, no? Ho voluto mettere insieme tantissimi pezzi, non è stato semplice, che in apparenza sono disordinati, ma che hanno un ordine logico. Però sappiamo tutti che quando noi vogliamo ricostruire la nostra memoria, veramente ci troviamo di fronte a uno specchio davvero in frantumi, e quindi così ho voluto costruire questo romanzo. che spero vi piace, insomma. Grazie mille, Marilena. Allora, mi attacco all'ultima cosa che hai detto, perché hai proprio toccato un punto su cui volevo chiederti alcune cose. Il libro, come lei diceva, non è costruito a capitoli, ma a istantanee, quindi riferimenti alla memoria della protagonista, su di lei e la famiglia, che permettono proprio di entrare all'interno dell'esperienza che fa una persona afrodiscendente. Cioè, questo libro è molto bello perché è molto scorrevole la lettura, però crea una tensione, perché viene molta voglia di leggerlo nel momento in cui ci si è propinto alla lettura, però dall'altra è veramente forte e impattante e il vissuto che costringe il lettore a vivere, appunto, è più disensibilizzante, direi. E questo è reso sia da, a mio avviso, insomma, è reso sia dalle istantanee che dall'altra, da alcune cose proprio caratteristiche della quotidianità della protagonista, che porta proprio il lettore a immergersi. A me ha colpito, per esempio, l'uso di più lingue. Infatti è usato un po' di Cicewa, che è la lingua del Malawi, dove il padre missionario della protagonista ha lavorato per un periodo, è usato a qualche esclamazione in ruandese, che dice la mamma, adesso provo a dirla, tu correggimi se sbaglio, Nia Gasani, giusto? Nia Gasane. Nia Gasane, ok. Sapevo che non l'avrei detto giusto. E poi è soprattutto il diretto bergamasco, perché come dicevi prima... Ce n'è tantissimo. Tantissimo. E ti fa capire l'occhio della città, l'occhio della società che circonda la protagonista. E questo è proprio... ricorda appunto il lettore che stiamo parlando della Bergamo anni 90, profondamente leghista. Quindi volevo chiederti appunto perché avevi scelto questa struttura, se potete raccontarci qualcosa di più sul perché hai scelto questa struttura a paragrafi molto brevi, appunto a istantanee, e se è anche un tuo obiettivo quello di far immergere così tanto il lettore dentro l'esperienza della protagonista. Sì, allora, intanto per quanto riguarda l'uso delle... quindi lingue che veramente abbracciano tantissime culture, quindi si passa dal dialetto bergamasco anche all'inglese, al francese, al king erguanda, al ciceua, è proprio un modo proprio che... per esprimere la complessità di un'identità che si trova ad ereditare proprio due culture diverse, quella ruandese e quella italiana. Però è ancora più complessa di così perché siamo nel contesto bergamasco e quindi la protagonista conosce benissimo il bergamasco e questa è la sua arma segreta perché poi quando si trova magari a Bergamo con gente che come al solito dice ma mandateli via di qui, sono troppi ma cosa volete, poi si trova anche a rispondere, no? in bergamasco, visto che lo capisce. e quindi sì, in realtà ho risposto in parte prima perché come dicevo la mia madre è uno specchio in frantumi e così è stato costruito il libro che è una flash novel e volevo proprio immergere il lettore dentro alla vita di questa bambina che pian piano cresce e in ogni capitolo c'è almeno un episodio di microaggressione. La microaggressione è una forma narcotica del pregiudizio che si esprime attraverso frasi, espressioni che sono in apparenza innocue ma che in realtà ti vogliono stigmatizzare ed escludere. Sono frasi del tipo ah ma come parli bene l'italiano dopo aver spiegato che comunque sei nata e cresciuta qua. Frasi magari anche che colpiscono tuo papà che quando sei piccola ecco si sente dire ah ma l'hai adottata 30 anni dopo ma è la tua badante? oppure quando spieghi che tua mamma lavora in un'azienda a Bergamo e scattala automatico no? Ah ma pulisce le scale no? Fala contabile perché guarda un po' che sanno anche contare no? E quindi di queste microaggressioni è costellato tutto il libro e sono una parte importante per capire comunque il razzismo strisciante di una città e di un paese in cui il razzismo è ancora un fenomeno importante no? Una realtà che diventa pericolosa quando miete morti ma secondo me ancora di più quando a livello istituzionale veramente va a impattare anche a lungo termine la vita della gente basti pensare anche solo non solo all'attuale legge sulla cittadinanza che discrimina quasi un milione di giovani che sono nati o cresciuti in Italia ma che non possono andare in gita scolastica non possono partecipare a livello agonistico gare sportive non possono partecipare a concorsi pubblici non possono votare ecco oppure lo vediamo anche semplicemente nelle politiche di mobilitazione internazionale dove l'Italia ha veramente un ruolo orripilante basti pensare al memorandum d'intesa Italia-Libia che è appena stato tacitamente rinnovato lo scorso novembre in cui l'Italia finanzia dei lager dove vengono stuprati torturati massacrati un sacco di bambini donne anziani uomini 600.000 persone di 44 diverse nazionalità quindi quando pensiamo a razzismo istituzionale che pervade questo paese veramente mi mi sento male ecco va bene grazie andando avanti facendo riferimento a un'altra cosa che hai detto prima quindi alla metafora dello specchio andato in frantumi pensando a questa cosa e riguardando il libro un po' in quest'ottica sembra quasi che il libro sia un tentativo di avere una panoramica su tutti questi frantumi dello specchio e anche magari un tentativo di rimetterli un po' tutti insieme e a me ha fatto pensare anche al concetto di doppia coscienza di Dubois quindi quel concetto per cui chi è immigrato o comunque discendente da famiglie immigrate che prova quella sensazione di essere sia escluso che incluso allo stesso tempo magari sia nel paese in cui vive e di cui appartiene sia magari nel paese in cui la sua famiglia proviene e quindi ho visto molto questa cosa volevo adesso ok e volevo chiederti se avevi pensato a questo quando avevi scritto il libro e e come come appunto pensi che un libro un libro del genere possa aiutare a rimettere insieme i pezzi in un'identità che è frammentata in un contesto del genere grazie familiarità con Dubois è quello che hai detto non ho pensato a lui perché ancora non lo conoscevo quando avevo scritto questo libro però assolutamente lo spaesamento questa anche questo sdoppiamento no perché comunque tu ti trovi a vivere quindi sei italiana però gli italiani non pensano che tu lo sia e quindi costantemente la tua italianità viene messa in discussione però quando poi ti trovi ad andare nel paese di mia mamma che è Rwanda viene chiamata musungu bianca ecco questo senso di disorientamento si moltiplica all'infinito e quindi senti di non appartenere a nessuna parte quindi in realtà a me ci ha voluto molto molto tempo poi per comprendere che la mia complessità era il mio punto di forza e che era una bellezza ma ci sono voluti tantissimi anni e soprattutto anche scoprire pian piano attraverso lo studio che la nerezza ha sempre fatto parte dell'identità italiana solo che è stata strategicamente invisibilizzata e silenziata quindi noi abbiamo avuto a parte il fatto che noi siamo tutti nati facciamo tutti parti della stessa famiglia e che risiede in Africa e a parte questo l'Italia ha avuto tre papi neri come Papa Vittore Papa Milziade Papa Gelasio ha avuto imperatori romani afrodiscendenti come Settimio Severo e moltissimi altri ha avuto filosofi che poi vengono sbiancati o almeno la parte afrodiscendente non viene valorizzata come Sant'Agostino abbiamo avuto tantissimi retori tantissimi pensatori abbiamo avuto poi tutta una pagina della schiavitù mediterranea solitamente ecco la prima volta che io ho scoperto quindi di uno straccio di storia africana è stato quando si è parlato di schiavitù ma solitamente si parla di schiavitù negli Stati Uniti la schiavitù transatlantica eppure qui abbiamo avuto la schiavitù mediterranea con i navigatori portochesi che hanno avuto un ruolo chiave nella transizione da schiavitù mediterranea a schiavitù transatlantica quindi abbiamo avuto anche noi i nostri schiavi prima quindi dall'Asia poi anche dall'Africa naturalmente un tipo di schiavitù diversa rispetto a quella transatlantica ma comunque una forma di schiavitù e con città come Livorno che ha avuto un'altissima densità di schiavi e quindi tutta questa storia è assolutamente oscurata abbiamo avuto anche dei santi in quel periodo come San Benedetto e tantissimi altri che hanno scritto dei trattati come Leone d'Africano che appunto non vengono nemmeno studiate e poi quando poi giungi nel periodo del colonialismo una pagina oscurata dalla storia italiana e scopri che per esempio c'è stato l'uso illecito di gas chimici appunto illegali nel corno d'Africa che hanno causato la morte di migliaia e migliaia di persone ad Addis Abeba nel 1937 e queste cose te a scuola non le leggi quando studi che ci sono stati degli zoo umani in cui gli africani venivano presi e portati in Italia esibiti come scimi animali a cui venivano lanciate banane in tantissime città d'Italia prima parlavamo anche di Torino con la nostra amica dove c'era parlavamo in realtà del museo della razza che ancora esiste che è assurdo comunque c'è stato anche ci sono anche a Torino un museo scusate uno zoo umano quindi zoo umani che ecco naturalmente non hanno fatto che continuare ad umanizzare il corpo nero quando noi pensiamo alla propaganda anche coloniale per invogliare l'italiano medio a penetrare letteralmente il corno d'Africa così come le loro donne e quindi di conseguenza anche il madamato lo stupro di tantissime donne e di conseguenza i tantissimi meticci che sono nati dall'Unione tra i soldati italiani e le donne nere poi non riconosciuti perché poi ci sono stati le leggi razziali che hanno cambiato l'immagine della donna africana che veniva prima ipersessualizzata ora viene completamente cancellata anche in tutti i modi perché non sono più possibili i rapporti tra persone i rapporti interraziali con la legge del 1937 e poi pian piano arrivi ad oggi però non possiamo non possiamo dimenticare anche il ruolo dei tantissimi partigiani neri e partigiane nere in questo paese dove sono i monumenti a queste persone dove sono dove siamo partigiani nere come Menena Begash che per esempio lei è venuta da uno zoo umano con l'esposizione universale che c'è stata a Napoli verso la fine degli anni 30 si è trovata bloccata insieme a un altro gruppo di persone africane dal corno d'Africa poi si è ritrovata nelle Marche e si è unita alla famosa banda Mario che è stata una banda partigiana multietnica per eccellenza che dovrebbe assolutamente essere studiata nei libri di storia e poi pian piano arrivi anche ad oggi ma dove sono tutti femministe come Elvira Banotti che hanno fatto la storia del femminismo italiano Italo Eritrea cioè dove sono le persone che hanno scritto un sacco di libri di testo che hanno fatto la storia di questo paese che ci sono sempre stati e che sono invisibilizzati anche per questo che ho voluto scrivere uno questo libro Negretta con una donna protagonista nera perché essere una donna nera in Italia vuol dire avere a che fare non solo con il sessismo come ogni altra donna ma anche con il razzismo strutturale e con il retaggio coloniale questi stereotipi che tendono a ipersessualizzare esotigizzare il corpo nero femminile dall'epoca coloniale con vignettisti come Enrico De Seta che le rappresentavano completamente nude disponibili e con queste vignette che sono ancora rimaste a intaccare l'immaginario di una cultura quella italiana in cui ancora la donna nera viene ipersessualizzata sono cresciuta leggendo che il nero anche adesso lo vedo nei libri che danno a mia figlia l'altro giorno ieri il maestro ha dato delle schede in cui bisognava associare un sentimento a un colore il nero associato alla paura e così hanno dovuto fare tutto un compito ma cestinatevi questi libri dove associano i sentimenti a un colore e continuano nuovamente a spiegare che il nero è un colore negativo brutto associato allo sporco al male basta c'è già la chiesa che con anni in tantissimi anni ha voluto sempre comunque fare questa propaganda associando quindi il bianco alla luce e al bene e il nero al male alle tenebre ma basta sono cresciuta leggendo libri in cui l'uomo nero nelle canzoni nelle ninananne era l'uomo cattivo da cui fuggire che ti porta via in cui le streghe sono sempre vestite di nero in cui i neri sono gli schiavi quando li guardi alla televisione quando non sono schiavi sono criminali placati dalla polizia se sono donne sono badanti o prostitute basta continuare anche con questa pornografia della povertà questa poverty porn che associata alle persone nere le vede sfruttate veramente strumentalizzate in passo al dibattito politico pubblico immediato che viene mostrato al culmine della propria vulnerabilità nudo morto riverso sulle nostre spiagge disperato quindi anche per questo per me è importante scrivere per cambiare la narrazione e soprattutto per una volta fare in modo che la voce delle persone afrodisciondenti non venga più veicolata da persone bianche che la strumentalizzano ma possa invece avere voce direttamente dalle persone interessate dalle persone nere di questo paese grazie 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 Marilena e colgo l'occasione per ricordare che noi siamo qui a seguire questa bellissima presentazione però nel mentre si sta svolgendo un corteo in centro a Pardova che chiede giustizia e verità per Usanna Ben Reba e per tutte le vittime del razzismo istituzionale grazie mille per aver ricordato Usama tra l'altro questa è una manifestazione appunto che è organizzata dal coordinamento antirazzista che è un coordinamento nato in seguito alla morte di Alika Ogurciuku lo scorso luglio che lo ricordiamo è quest'uomo nigeriano che è stato ucciso a stampellate da Federico Ferlazzo a Civitanova Marche asfissiato con le sue stesse stampelle esattamente come George Floyd e quindi è importante anche ricordare Usama ci ricorda innanzitutto che in Italia come negli Stati Uniti la profilazione razziale esiste che la polizia ferma le persone in base al colore della pelle e anche ai tratti somatici quindi chi non è bianco è in pericolo in questo paese c'era un bellissimo pezzo anche su Rolling Stone di non molto tempo fa che faceva una lista di alcune delle tantissime vittime morte per via della profilazione razziale in Italia ecco Usama all'inizio di gennaio per chi non lo sapesse è stato fermato dalla polizia e poi si è gettato nel Brenta ma secondo alcuni testimoni si è gettato dopo essere stato violentemente attaccato dalla polizia tra l'altro poi a proposito di questo negli Stati Uniti proprio oggi era anche la notizia di un afroamericano che è stato appunto ucciso da dei poliziotti americani e quindi questa purtroppo è una realtà che c'è anche in Italia solamente che siccome non si raccolgono i dati quindi delle persone etniche quindi di vari gruppi etnici anche rispetto a queste tematiche nel nostro paese è difficile ecco poterle spiegare in modo approfondito però la profiliazione razziale esiste io per esempio sono stata io adesso abito a Venezia ma quando guidavo venivo praticamente sempre fermata allo stesso posto di blocco dalla polizia che mi chiedeva sempre quindi il documento di identità e la patente prima di sposarmi con una persona bianca ogni volta che uscivo dall'Italia quindi andavo alla dogana la guardia di finanza mi fermava automaticamente per perquisire naturalmente tutto il mio bagaglio cioè quindi la profilazione razziale la conosco da quando sono nata immaginate per mia mamma che ha veramente la pelle più scura della mia come questo occhio sia veramente costantemente sopra di te ecco quindi grazie per aver ricordato Sama Alessandro ecco figurati tornando al libro invece ho visto che tu avevi pubblicato un libro precedentemente prima di questo che si intitola è un tuo memoir e si intitola Razzismo all'italiana cronache di una spina e mezzo sangue e volevo chiederti come mai hai deciso di pubblicare un secondo libro e quale valore aggiunto ha questo libro rispetto al precedente allora il precedente era un memoir questo invece è il primo romanzo che rappresenta il primo pezzo la prima parte della prima saga familiare afrodiscendente in Italia perché sta per uscire a marzo sempre con la Red Star Press abbiamo qui davanti Cristiano Armatica il mio editore sta per uscire la seconda parte quindi la continuazione di questo romanzo che appunto esce a marzo e che presenteremo al Book Pride a Milano e quindi ecco il valore aggiunto perché non c'è un libro come questo non c'è nessuna saga familiare afrodiscendente in Italia e quindi stiamo facendo nel nostro piccolo la storia della letteratura e una cosa che ci tengo a dire questa non è letteratura migrante come spesso viene classificata questa è letteratura italianissima direi perché come dicevamo all'inizio la nerezza ha sempre fatto parte dell'identità italiana e poi io sono appunto italiana italianissima e quindi questa è letteratura italiana come ci ricorda anche una mia collega di Jabba Shigo che è anche una cara amica va bene grazie allora aspettiamo il sequel in un certo senso e volevo chiederti un'altra cosa prima hai parlato di caffè latte e la tua amica latte l'amica scusami l'amica della protagonista latte presente nel libro e volevo chiederti qualcosa sul valore dell'amicizia in questo testo e quanto l'amicizia possa dare forza in certi contesti quando almeno da quello che traspare nel libro latte è veramente con lei che dà la forza alla protagonista di fare moltissime delle cose che fa certo anche questo si ispira veramente un'amicizia vera e senza la mia migliore amica non so come avrei fatto veramente a sopravvivere a Bergamo e i miei amici che sono esistono tutt'oggi e che conto veramente sulle dita della mia mano hanno tutti in qualche modo come dire sono tutti un po' stigmatizzati quindi c'era latte che anche lei sinceramente navigava in cattive acque economiche proprio come come me e poi ci sono nella mia vita reale anche altri amici che quindi in qualche modo vivono come dire sono tra virgolette diversi ma che per me sono molto cari ecco l'amicizia è tutto e soprattutto oggi che ormai ho una mia famiglia mi rendo conto che queste almeno sono le mie conclusioni l'amicizia rimane e l'amicizia è fatta dalle persone che tu ti scegli ti scegli nella vita e che quindi soprattutto quando si tratta di persone come latte ecco fanno la differenza è un'amicizia veramente che è anche fatta di un rapporto di amore un rapporto di amore e di odio anche sono parecchi gli scontri in realtà sì sono parecchie le imprese che fanno insieme la protagonista e l'atto e questa è una parte importante del libro perché se la prima parte del libro può risultare un po' più pesante poi nella seconda parte in cui emerge sempre di più questa amicizia inizia ad alleggerirsi ci sono anche momenti di larità direi che fanno anche abbastanza ridere e quindi questo direi che l'amicizia per me ha voluto dire moltissimo e sopravvive anche oggi va bene grazie mille allora ci avviamo verso la conclusione io ti faccio un'altra domanda prima parlavi di monumenti tutto il libro si propone di parlare di razzismo istituzionale di razzismo sistemico fatto sia di micro che di macro aggressioni però parla anche delle narrazioni che rappresentano chi migra o chi è figlio o figlia di chi ha immigrato in un contesto di inferiorità disperazione e disagio esemplare è la frase che dice Chantal la madre della protagonista che adesso leggerò è qui all'inizio del libro pagina 15 mia madre sollevò ancora i battipanni e lo battè sulla mia schiena con maggiore violenza a ogni botta una parola quando lo capirai che noi contiamo meno dei bianchi ecco questo è molto chiaro secondo me la narrazione che entra nella testa anche di chi viene discriminato e a questo punto io ti pongo la questione per sradicare il razzismo tu non sei solo una scrittrice sei appunto una fotografa una una regista e per proporre appunto degli immaginari alternativi e trasformare lo sguardo razzista che persiste nella nostra società questi mezzi multimediali che tu comunque perdoneggi secondo te che contributo possono dare e come possono essere integrati magari anche con la scrittura o con la letteratura allora sì effettivamente oltre a scrivere mi occupo lavoro con artisti musicisti dai paesi meno rappresentati dal mondo a partire dal paese di mia mamma che è Ruanda il mio focus è l'Africa e lavoro insieme appunto a mio marito che produce questi questi album io curo la parte quindi della fotografia della promozione del video sono anche produttore esecutivo e questi sono dei lavori in cui noi cerchiamo di dare voce a chi solitamente non ne ha a chi per esempio la cui voce viene silenziata abbiamo siamo partiti da Ruanda dove abbiamo lavorato con i Good Ones che è una band che è un trio ruandese che ingloba le tre tribù da Ruanda e poi abbiamo proseguito anche in Malawi dove abbiamo anche lavorato con i carcerati donne e uomini della prigione di massima sicurezza di Zomba e quindi questo ci ha dato anche modo di parlare dei problemi di queste prigioni in cui questa prigione è concepita per poco più di 300 persone ne occupa più di 1000 ed è e quindi ci ha permesso anche di parlare del fatto che moltissimi sono i prigionieri che finiscono in prigione perché accusate ad esempio di stregoneria piuttosto che di omosessualità e quindi per noi ecco poi questo lavoro tra l'altro che poi è risultato nell'album Zomba Prison Project è stato nominato ai Grammys nel 2016 poi un segmento che è stato dedicato da 60 Minutes dall'anchorman Anderson Cooper ha vinto anche un Emmy proprio dedicato a questo a questo nostro lavoro e sono moltissimi altri lavori che abbiamo fatto sempre in queste zone meno rappresentate del mondo quindi proprio esattamente come cerco di fare con la letteratura cerco di dare voce alle persone che solitamente non ne hanno gli invisibili e quindi c'è assolutamente un proseguio c'è una continuità in tutto questo un'altra cosa che faccio da un anno a questa parte ho fondato online un'academy che si chiama l'academy dell'antirazzismo dove facciamo proprio dei corsi di antirazzismo per famiglie multietniche per bambini etnicamente diversi per insegnanti ma anche per singoli che semplicemente vogliono decostruire la propria bianchezza e affrontare un decorso anche di decolonizzazione culturale che secondo me è necessario quindi per esempio a febbraio promuoviamo con la nostra academy il corso Black History Month tutto l'anno che è dedicato alla storia delle persone afrodiscendenti d'Italia specificamente italiane dall'impero romano a oggi e quindi per me è veramente molto importante anche in quanto persona razzializzata cercare di fare in modo che ecco siano le persone direttamente interessate a parlare di se stesse è uno spazio quello che stiamo cercando di prenderci che ci è stato tolto da tantissimo tempo e quindi è importante per me ricordare costantemente e lo ripeto per la terza volta questo pomeriggio che la nerezza ha sempre fatto parte dell'identità italiana siamo una vibrante comunità multietnica e semplicemente ce lo dobbiamo ricordare quindi parlare di invasione non ha assolutamente senso e quindi moltissime sono le cose che vanno cambiate dunque le morti come quelle di Usama e le tantissime altre che purtroppo hanno macchiato questo paese ci ricordano che ancora oggi abbiamo un problema con il razzismo e visto che oggi effettivamente è una giornata anche un po' di riflessione pensando a Usama mi vengono in mente anche tantissime altre morti di questo paese come per esempio Musabalde che a parte lì che ha Gorciuc lo scorso luglio Musabalde nel 2021 che si è suicidato in uno di quei centri per il rimpatrio dopo un pestaggio a Torino si è suicidato uno di quei centri in cui i diritti umanitari vengono costantemente calpestati e dove le persone poi vivono tra l'altro in condizioni igienico-sanitarie terribili costantemente vessate dalle forze dell'ordine penso a Saeed Vizin che sempre nel 2021 giovane promessa del Milan si è tolto la vita dopo aver ripetutamente denunciato il razzismo e il dolore che subiva che provava sui social penso a i Didiene nel 2018 sul ponte di Firenze ucciso a colpi d'arma da fuoco da un italiano bianco sette anni dopo che i due stessi sui connazionali avevano quello stesso ponte fatto la sua fine uccise allo stesso modo vittime del razzismo penso a Somalia Sacco che è morto proprio il giorno della Repubblica il 2 giugno sempre nel 2018 ucciso a colpi di fucile da un italiano bianco che diceva sentite un po' che lo ha fatto perché era un invasore a casa mia oppure mi viene in mente anche nel 2016 Mohamed Habassi tunisino torturato perché era indietro con l'affitto e se guardiamo se pensiamo all'ultimo quarantennio mi viene in mente Alijama nel 1979 Somalo bruciato vivo sotto un ponte perché non si sa da quattro italiani che nonostante le sette testimonianze di persone che uscivano dal ristorante lì vicino verranno assolte in corte di Cassazione Giacomo Valente nel 1985 venne ucciso con 63 coltellate da dei suoi compagni liceali neonazisti uno su tutti Jerry a San Maslow nel 1989 raccoglitore di pomodori che viene ucciso da un raid razzista ma la sua morte porta alla prima rivolta contro il caporalato e alla nascita del movimento antirazzista italiano ed è qui che voglio arrivare e cioè che è veramente importante decolonizzare una cultura in cui l'antirazzismo non è ancora una priorità e se ci domandiamo se l'Italia è un paese razzista basta pensare all'attuale situazione non abbiamo parlato a livello istituzionale che permea questo paese quindi non è una questione di dire se l'Italia è razzista se il razzismo esiste in questo paese ma come si manifesta il razzismo in questo paese grazie va bene grazie mille Marilena prima ci dicevi che ci sarà un sequel di questo libro ci sono altri progetti editoriali che hai in mente sì vero abbiamo già in mente un paio di libri per bambini visto che non ci sono tantissimi libri per bambini per persone razzializzate in questo paese e al momento questo per quanto riguarda la parte editoriale poi per quanto riguarda la parte musicale invece c'è un bellissimo progetto che che sto ultimando dovrebbe uscire e che viene dall'Alabama questa volta e e poi un altro progetto invece che sta per uscire da Azerbaijan perfetto va bene grazie mille allora li attendiamo con ansia grazie ringrazio tutte e tutti ringrazio Marilena e la presentazione è finita buon proseguimento grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti.